black italia film showcase nasce in realtà tantissimi anni fa ma era impossibile praticarlo perché non c'erano molti titoli almeno molto eterogeni di quello che ho già visto in altri black festival in stati uniti canada ma anche in inghilterra in francia e quindi tanti anni fa mi sarebbe sempre piaciuto portare un qualcosa del genere anche per poi fare community networking con altri filmmaker ovviamente afrodiscendenti e invece dalla pandemia ci siamo resi conto che c'erano sufficienti titoli per iniziare questo progetto nel 2023 l'istituto italiano di cultura di chicago presenta un programma tematico che sarà da filo conduttore a tutte le attività che l'istituto presenterà a chicago che si intitola chi siamo representing italian calcio è certamente un titolo è un tema complesso impegnativo una grande sfida a quello che intendiamo fare e raccontare la complessità l'articolazione e la ricchezza della società italiana contemporanea da un punto di vista culturale sociale e linguistico le opere che fanno parte della segna black italian film showcase sono state tutte realizzate scritte dirette da cineasti e cineaste italiani afrodiscendenti e questo rappresenta senz'altro non soltanto una novità per il pubblico sia italiano che statunitense ma anche la testimonianza di una realtà culturale in grande crescita ed evoluzione che si sta affermando sul panorama culturale italiano auton beat nasce come romanzo quindi io avevo nelle note del cellulare delle idee legate ad un romanzo dove c'era la storia di due fratelli che avevano lo stesso sogno e amavano la stessa donna quando stavo lavorando ad una serie o in quelle settimane pensavo che cosa potrei fare come progetto nuovo e guardando tra le note trovai questa storia che avevo abbozzato un po di tempo prima e quindi da lì poi pensai di sviluppare prima la sceneggiatura e poi finire il romanzo i punti d'incontro tra la scrittura e la regia penso che siano quelli della volontà di voler raccontare delle storie e poi sicuramente i mezzi sono diversi ma il punto di partenza è sempre lo stesso quello di voler raccontare delle storie sicuramente la differenza sa nel fatto che scrivere un romanzo e parlare senza essere interrotti invece la realizzazione di un film è un continuo confronto con gli altri però i punti d'incontro credo che siano proprio questi cioè la volontà di raccontare delle storie e di mettere sul piatto la propria visione del mondo la valenza è duplice quella di far conoscere in questo caso un'Italia più inclusiva e anche altre storie che non si conoscono e poi anche quello di ispirare anche tante altre persone intraprendere questa carriera o a migliorarsi all'interno di questa carriera quindi avere anche opportunità di networking di visibilità quindi la visibilità è molto importante anche per produttori e sceneggiatori che magari vogliono anche investire su questi talenti ma magari non sanno che esistono. Black Italian Film Showcase in particolare ma in realtà tutto il programma Chi siamo del 2023 risponde al desiderio di creare un dialogo culturale individuare un terreno comune su cui instaurare una conversazione e approfondire le relazioni e i legami con le istituzioni culturali americane ma soprattutto con il pubblico ma piuttosto direi con la società americana Io penso che il cinema sia importante perché il cinema cambia l'immaginario no sai spesso l'idea che hanno dell'Italia all'estero e anche legata forse a molti film italo-americani che hanno avuto grandissimo successo e il cinema è in grado di fare questo quello di poter cambiare l'immaginario quello di poter inserire delle cose nuove all'interno dell'immaginario comune quindi anche quello di normalizzare attraverso il cinema ma soprattutto la serialità dove siamo magari anche un rapporto un po' più lungo con il consumatore quindi la volontà è quella attraverso il cinema di riuscire a raccontare delle storie per far sì che il mondo le conosca anche se il mondo le conosce già e che il mondo le capisca e le normalizzi